e salve a tutti io sono stile stanzionato in questo nuovo video video reazione musicale dove andiamo a reagire alla nuova canzone di capo plaza ovvero nato per questo è già reagito a questo cantante già precedentemente adesso devo leggere la sua prossima canzone e adesso e adesso andiamo a reagire a la prossima a questa canzone qua a questa canzone nato per questo c'è un piano credibile a va fallito mi chiama fallito come sto a sognare pensando alla morte il bello umano nei miei sbagli e quando erano a salvarci pressioni costante ogni giorno niente da dire questo qua secondo me è un capolavoro bello 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 mi piace mi casa anche un testo fatto anche anche bene secondo me sempre a stile capo plaza però qua lo vedo evoluto vedo di leggere evoluzione rispetto a la vecchia canzone che ha fatto freestyle che ho vestito a un bel 9 perché è pura quando un pezzo si lascia senza parole è un pezzo fatto bene veramente bene e quindi direi che questo io può terminare qua un bel by by